Sport, palla a volo, Serie A1 maschile, vittoria per la Sir Safety Perugia al Pala Evangelisti, abbattuto per 3-7 a 0 il Padova. Veneti poco incisivi, padroni di casa determinati che si assicurano il primo parziale 25-22. I tentativi di recupero dei padovani non sortiscono effetto e gli ultimi due set si concludono favorevolmente per i perugini 25-20 e 25-21.